Giovedì 11 luglio 2019, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Olga di Kiev. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Il numero portafortuna è l'otto, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. L'11 luglio del 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti a giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa. Il 18 marzo 1986, Michele Sindona e l'italo-americano Robert Venetucci saranno condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri allo stilista Giorgio Armani, nato a Piacenza l'11 luglio 1934. Considerato uno dei maggiori designer di sempre a livello mondiale, Armani ha rivoluzionato la moda dall'interno, con la creazione di capi inediti come le famose giacche destrutturate, emblema assoluto del suo stile. Nel 2015 la rivista Forbes lo ha censito come il quinto uomo più ricco d'Italia e al 174esimo posto nel mondo. Le frasi del cinema. Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia la via dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici. Sempre. Dal film Gandhi. Proverbio del giorno. La sorte fa i genitori. La scelta. Gli amici. Proverbio asiatico.